La galleria degli specchi è l'ambiente più scenografico del palazzo. Fu realizzata così come la vediamo oggi, alla fine degli anni 20 del Settecento, su disegno, su progetto di Domenico Parodi che per Gerolamo Durazzo ridisegnò completamente quella che prima, soprattutto per i balbi, era stata una galleria di quadri. Come è facile capire, qui hanno molto importanza i modelli sia romani, le due gallerie Colonna e Doria Panfili, ma soprattutto la Gallerie des Glaces della Reggio di Versailles. I Durazzo vogliono creare un ambiente di eccezione facendo dialogare la decorazione dipinta sulle volte, appunto, dove Domenico Parodi dipinge Bacco a Est, Apollo a Ovest e Venere al centro della volta, ma anche stucchi, ancora una volta, di stuccatori cantonesi e statue antiche e moderne. Le statue antiche già facevano parte della collezione Durazzo, sono statue romane, variamente restaurate. Ma qui trovano spazio quattro importanti sculture del padre di Domenico, Filippo Parodi, sicuramente l'artista, lo scultore più importante della seconda metà del seicento genovese, quello che porta da Roma la lezione berniniana e qui, appunto, è rappresentato dalle cosiddette metamorfosi. La galleria degli specchi aveva naturalmente anche una funzione pratica, serviva sicuramente a stupire, come ha stupito noi, gli ospiti, quindi con una sequenza di opere che creano un interno di prestigio, di lusso, di grande qualità. Ma anche ospitava dei banchetti, su questo lungo spazio, veniva costruito un grande tavolo di gala e in occasioni importanti per la visita di ambasciatori, di membri di altre famiglie importanti d'Europa, qui, appunto, si organizzavano pranzi di grande qualità. La sala è tuttora caratterizzata, come ho detto, da queste serie straordinarie di sculture. Il più importante è questo gruppo di Francesco Schiaffino. Vedete, anche qui siamo in territorio berniniano, è quasi un secolo più tardi, perché siamo all'inizio del Settecento. Però questa scultura, per il tramite di Camillo Rusconi, un artista milanese, ma che lavora a Roma, ripropone il grande modello berniniano del ratto di Proserpina. È Plutone che rapisce Proserpina e la trascina, appunto, nel suo regno, cioè si vede da un lato Cerbero il cane a tre teste. È ancora, siamo le ultime propagine, diciamo, del barocco, è ancora una grande macchina scenografica che i Durazzo immaginano, appunto, alla fine come punto focale della galleria. E ancora oggi, ecco, assolve degnamente a quella funzione. Ma adesso è il momento di passare alla Sala del Trono. Grazie. Grazie.